Il posto è stata la dinastia non dei Romani, che solticò. Allora, perché Paolo III? Allora, perché Paolo III? Allora, perché Paolo III? Allora, questa escursione, questa campana, quando è arrivato l'incendio enorme e così come la gente cercava di salvarla e hanno incominciato a versare l'acqua fredda sulla campana già riscaldata. C'è un'altra escursione che come non ci voleva neanche l'acqua fredda, perché come la campana veniva riscaldata diversamente da tutte le parti. E così questa escursione ternica ha provocato lo spacco della campana. Allora ha preso 200 tonnellate. Intanto questo, 11 tonnellate, il battacchio 5, non è stato destinato neanche per questa torre campanaria, perché è troppo pesante. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda. La piazza rossa. Un attimo che arriviamo, vai, dammi la mano. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda. Allora ha preso 200 tonnellate, perché la campana veniva riscaldata diversamente da un'acqua fredda.